Gravidanza in salute. Proteggi te stessa e il tuo bambino. Vuoi per il tuo bambino solo il meglio. Un bel aspetto, talento nello sport, una vita sociale appagante. Lo proteggi e te ne prendi cura fin dal principio. Per dargli uno sviluppo sano, non bevi alcolici e stai attenta a ciò che mangi. Fai movimento per tenerti in salute e fai del tuo meglio per evitare di contrarre malattie. Ma quando si tratta di influenza, è bene prendere qualche precauzione in più. Durante la gravidanza la vaccinazione anti-influenzale è raccomandata. Protegge te e il tuo bambino da infezioni pericolose e riduce il rischio di parto prematuro, evitando così la nascita di un bambino sottopeso. Quando farai la vaccinazione anti-influenzale, chiedi al tuo ginecologo di parlarti della protezione contro l'apertosse, una malattia infettiva molto contagiosa e rischiosa per il tuo bambino nei primi mesi di vita. Vaccinati nel terzo trimestre di gravidanza e proteggi così il tuo bambino. Ecco una cosa da aggiungere alla lista delle cose che vorresti trasmettere al tuo bambino. Grazie. Grazie.